Blitz dei carabinieri del ROS contro Andrangheta, arresti e perquisizioni per l'omicidio di Bruzzese avvenuto il giorno di Natale in centro a Pesaro. Il voto in provincia di Pesaro Urbino Massimo Berloni eletto a Possombrone, riconfermati Nicola Barbieri a Mondolfo con l'85% dei voti, Mirko Zenobia a Mondavio ed Emanuele Feduzzi a Fermignano, Pietro Briganti eletto sindaco a Colli al Metauro. Tra una decina di giorni in Italia scatta l'obbligo della certificazione verde che di fatto impone alle persone di fare il vaccino anche se contrari. Ecco la testimonianza di una coppia di San Benedetto che ha deciso però di non vaccinarsi. A Fano inaugurato il Palatrave, una struttura sportiva completamente nuova che verrà gestita dalla società di pallavolo Virtus. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia, canale 17 di Fano TV. Allora partiamo dall'arresto di quattro persone che sono state fermate questa mattina in diverse città italiane perché ritenute responsabili dell'omicidio di Marcello Bruzzese, l'uomo che era stato assassinato il giorno di Natale di tre anni fa nel centro di Pesaro pagando con la vita la collaborazione con la giustizia del fratello Girolamo legato in passato all'Andrangheta. Alle prime ore dell'alba Michelangelo Tripodi, Francesco Candiloro e Rocco Versace sono stati fermati perché ritenuti gli organizzatori e gli esecutori materiali dell'omicidio di Marcello Bruzzese ucciso il 25 dicembre 2018 in una località protetta a Pesaro, città nella quale viveva con la nuova identità insieme alla famiglia. Bruzzese che venne crivellato con 20 colpi di pistola calibro 9 mentre parcheggiava l'auto nel garage era il fratello di Girolamo, pentito di Andrangheta e passato dalla parte dello Stato. I presunti assassini hanno fatto pagare a lui con la vita il prezzo della collaborazione del fratello con i magistrati, dunque un omicidio di vendetta per rimarcare la capacità di intimidazione della cosca Crea e scoraggiare ulteriori tradimenti. L'altro fermo riguarda Vincenzo Larosa, indiziato di associazione mafiosa. Oggi i quattro sono stati arrestati e portati in carcere in diverse città d'Italia. Le indagini condotte da Rosso sotto la direzione delle procure distrettuali di Ancone e Reggio Calabria sono durate quasi tre anni. Abbiamo dato una risposta attesa lunga, ha dichiarato Luciano Ricciardi, comandante della compagnia Carabinieri di Pesaro Rubino, che ha collaborato nella fase esecutiva. I sicari, ha precisato, avevano un'alta capacità di mimetizzarsi con l'ambiente. Erano dei professionisti che avevano studiato attentamente il momento giusto per agire. Infatti avevano eseguito minuziosi e ripetuti sopralluoghi per capire le abitudini della vittima, adottando documenti falsi e una serie di accorgimenti utili per impedire la propria identificazione. Inoltre monitoravano i fratelli di Marcello, residenti in altre località protette, e avevano tentato di contattarli sul web attraverso falsi account. Ha parlato di un'indagine straordinaria? Indagine straordinaria per metodo, per la tecnologia impiegata, per la ricostruzione storica del fatto, per aver constatato che anche dei soggetti che commettono un crimine così importante vengono fuori da insospettabili incensurati. Uno a Brescia, di origine sempre calabrese e altri in Reggio Calabria, in Calabria, in sostanza a Palmi. L'operazione è stata portata a termine proprio nel giorno in cui il comandante, dopo quattro anni, lascia il vertice della compagnia. Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina durante una cerimonia privata alla presenza del comandante della legione Carabinieri Marche, Fabiano Salticchioli. A Ricciardi subentra il tenente colonnello Gianluigi Cirtoli di Forlicesena. Sicuramente il mio pensiero va ai cittadini ai quali noi Carabinieri abbiamo dato il servizio, il servizio alle comunità. Ricordavo prima la pandemia che è stato un momento fondamentale per noi per rimarcare quello che è cos'è la prossimità per noi, la vicinanza ai cittadini, cercando di stare vicini appunto, aiutandoli bisogno. Mi ricordo gli anziani che non potevano andare in farmacia e le nostre pattuglie provvedevano a prendere i farmaci e consegnarli a questi anziani e così via. Oggi è conclusione di attività professionale a Pesano. Abbiamo raggiunto questo risultato grazie alla direzione della procura, dei colleghi del ROS che sono in capofila nell'indagine investigativa. Noi abbiamo dato il nostro supporto, ovviamente l'omicidio è avvenuto in questo territorio, la parte del reparto operativo ha collaborato in piena sinergia con il nostro raggruppamento operativo speciale. E due dei fermati erano pronti a commettere altri delitti con la disponibilità di armi da guerra inquietanti. Lo ha rivelato la procuratrice distrettuale antimafia delle Marche, Monica Garulli, la quale ha aggiunto che gli indiziati stavano pianificando un altro delitto di un altro testimone di giustizia che aveva reso testimonianze. E adesso passiamo alle elezioni amministrative perché oggi 28 comuni delle Marche hanno eletto i loro sindaci. Allora vediamo i risultati che riguardano la provincia di Pesaro e Urbino dove sono tornati alle urne i cittadini di 7 comuni. Marchigiani alle urne ieri e oggi per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare il Consiglio in 28 comuni. In provincia di Pesaro e Urbino il primo a festeggiare è stato il sindaco uscente di Mercatino Conca, Omar Lavanna, che si candidava per il terzo mandato. Già con i dati dell'affluenza di domenica sera aveva superato il quorum del 40% necessario per la validità dell'elezione essendo l'unico candidato. Come lui ha fatto una corsa in solitaria anche il primo cittadino uscente di gradare a Filippo Gasperi, confermato oggi dai suoi concittadini, che dunque gli hanno rinnovato la fiducia e superato il 46% di affluenza. A Cogli al Metauro l'assessore ai lavori pubblici Pietro Briganti ha avuto la meglio sullo sfidante Candio Curina, geologo di 70 anni ed ex dirigente scolastico. Vi ringrazio tutti i miei concittadini per il grande risultato che abbiamo ottenuto, ringrazio tutta la mia squadra al completo perché mi sono stati vicino e hanno consentito di ottenere questo bel gran risultato. Da domani ci metteremo subito al lavoro per far crescere Cogli al Metauro, per portare a termine tutti quei progetti che abbiamo illustrato nei numerosi incontri avuti con i cittadini. Quindi inizieremo a realizzare marciapiedi e piste ciclabili e soprattutto a mettere in sicurezza tutte le scuole dove ogni giorno i nostri ragazzi passano la gran parte della loro giornata. Sfida 2 anche a Fermignano e Mondavio dove sono stati riconfermati i sindaci Emanuele Feduzzi e Mirko Zenobi. Quest'ultimo ha ottenuto 71,40% delle preferenze battendo Girolamo Martino. Beh c'è tanta emozione, tanta soddisfazione perché comunque viene premiato in parte un lavoro degli ultimi anni ma poi c'è anche la soddisfazione per tutta la squadra. È stata una squadra ampiamente rinnovata, tanti giovani, tante persone nuove e quindi tanta soddisfazione credo per tutto il gruppo. È stato un lavoro di squadra non solamente del candidato. Feduzzi invece, farmacista di 39 anni, ha vinto per il centro-sinistra con Fermignano Futura. Ha chiuso la sua corsa con il 59,78% dei consensi contro Delfina Betonica, 70 anni, ex insegnante e dirigente scolastico. Non mi aspettavo una vittoria così larga, una vittoria che ci ripaga dei tanti sforzi fatti in questi cinque anni e del lavoro che abbiamo fatto. Una vittoria che ci ripaga anche delle cattivere che ci sono state dette in questi giorni e una vittoria soprattutto che ripaga tutti i formiglianesi. Che ringrazio per la loro fiducia, per la fiducia che hanno dato a me, a tutta la squadra e tutti i miei collaboratori. Grazie a Fermignano. A tentare il bis nella sua città è stato anche Nicola Barbieri, 32 anni, che ha ottenuto più dell'84% dei voti. Una vittoria schiacciante contro l'unico avversario, Anteo Bonacorsi, 52 anni, agente di commercio e segretario locale del PSI. È un risultato storico, siamo davvero contenti, una grande percentuale e quindi ringrazio tutti i cittadini che ci hanno sostenuto, che hanno riconosciuto il lavoro fatto in tutti questi cinque anni e hanno capito il nostro progetto civico e la validità del nostro progetto civico. Quindi siamo davvero molto molto contenti, tutta la squadra, di fare città. Nell'entroterra invece occhi puntati, in particolare su Fossombrone, dove l'imprenditore della moda e della ristorazione ha avuto la meglio sui suoi tre sfidanti. Massimo Berloni è il sindaco che guiderà la città della media Valmetauro per i prossimi cinque anni. E da imprenditore di successo, praticamente a primo cittadino, andiamo direttamente a Fossombrone dove c'è in collegamento con noi Simona Zonghetti con il neosindaco Berloni. Buonasera Simona. Sì, direttore, buonasera. È festa qui a Fossombrone per la vittoria di Berloni e logicamente di tutta la lista. Vi ricordiamo appunto che c'è stata una sfida a quattro, due uomini e due donne, Gloria Mea, Elisa Cipriani, Fabio Londei e Massimo Berloni, che ha vinto esattamente con il 59,49% dei consensi, pari a 3.068 voti. L'affluenza alle urne è stata leggermente in calo rispetto alle precedenti amministrative, passando dal 72% circa al 67,61. Ebbene, i cittadini di Fossombrone in questi due giorni si sono recati alle urne e hanno scelto il loro nuovo sindaco. Massimo Berloni, da noto imprenditore di successo, giustamente come ricordavi, ha il servizio della comunità. Intanto le chiedo come ha preso questa vittoria. Beh, l'ho preso con grande stupore, nel senso che non mi aspettavo un successo così importante, è un successo che lo devo a tutta la squadra, a tutto il gruppo di lavoro, che con entusiasmo ci ha permesso di stare insieme per questi due mesi, due mesi e mezzo faticosi, dove abbiamo dato tutto quello che avevamo per far capire chi eravamo e cosa volevamo fare. Soprattutto è un successo, credo, fondamentalmente per i fossombronesi, ai quali la vittoria gli va riconosciuti, dal momento che hanno avuto il coraggio di prendere una decisione importante, chiudere con il passato, chiudere con chi cerca di sgretolare, chi cerca di, attraverso l'odio, di rompere quello che è invece un'armonia per una comunità importante, in modo particolare per il fossombrone. Ed ora quale sarà il suo primo atto, qual è la priorità? La priorità di fare la squadra, una squadra omogenea, una squadra corta, una squadra compatta, che deve permetterci nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile di attuare quello che tutti sanno e agli occhi di fronte di tutti quello che c'è bisogno e quello che è necessario fare. Nella sua lista chi è che ha ottenuto più voti? Ma guardando prima Chiara Billi, credo, Chiara Billi che ha un... Fossombrone tra l'altro conosce molto bene. Fossombrone conosce molto bene, è una persona che ha dedicato tanto lavoro per la comunità, viene da precedenti esperienze. Io è stata una scelta nell'appoggiarmi, nel chiedere il suo aiuto fin dall'inizio, perché credo che uno con un'esperienza come la sua può essere soltanto utile in una squadra omogenea che ha voglia e ha desiderio di fare. A proposito di squadra omogenea, la sua lista è sostenuta da APD, Socialisti, Forza Italia, Lega, dunque avete tolto queste disparità? Avete preferito puntare invece su un nuovo modo di fare politica, avevate dichiarato nei giorni scorsi? Sì, io non so esattamente, i miei compagni d'avventura, esattamente qual è il loro pensiero politico, ma mi interessa anche poco. Mi interessa le loro capacità, le loro dedizioni e la loro voglia di fare bene in un paese dove necessita fare tanto bene. Bene Sindaco, grazie. Magari ci rivediamo a Primo Cittadino, un programma che tra l'altro, direttore, partirà appunto nelle prossime settimane. Da Fossombrone è tutto. Bene, grazie, buon lavoro. Allora, noi intanto andiamo avanti con il telegiornale perché adesso dobbiamo parlare della pagina del Covid, l'aggiornamento consueto. Sono 18, scende a 18 il numero dei positivi rilevati nelle Marche, in 24 ore a fronte di un calo di tamponi processati, ovviamente soltanto circa 800. In provincia di Ancona sono stati registrati 12 contagi, 3 in quella di Pesero-Urbino e 1 nel Maceratese. In terapia intensiva c'è un ricovero in meno rispetto a ieri, mentre resta invariato il dato dei degenti in semi-intensiva, 16 in totale. Nell'ultima giornata non si sono verificati decessi legati al coronavirus. Se adesso invece vi facciamo sentire la testimonianza di una coppia di San Benedetto del Tronto che ha deciso di non vaccinarsi. Allora, siamo impazzi, io voglio firmare una cosa che mi iniettano, firmo che se capita qualcosa mi ero consapevole, io non ne sono consapevole. Lui è Giovanni Guarnieri, imprenditore di San Benedetto del Tronto, che ha deciso di esporci il suo pensiero in merito ai vaccini. Giovanni, 53 anni, non ha contratto il Covid e ha sempre prestato massima attenzione all'enorme anticontagio. Evita i luoghi affollati, indossa la mascherina e usa di frequente il gel igienizzante. Sul siero però ha ancora molti dubbi. Diciamo che ci sono tanti ricoverati di Covid? Perfetto. Perché non diciamo che quelli ricoverati di Covid, molti sono quelli che hanno fatto anche il vaccino, già anche la seconda dose? Giovanni in questi mesi ha avuto modo di confrontarsi anche con esperti e medici dell'ospedale di Parma, i quali ritengono che il vaccino non sia ancora sicuro. Dello stesso parere ha anche un suo familiare che lavora nel settore. Perché? Lui non è che dice che non va bene. Attenzione, può essere che vada anche bene. Però per sapere se va bene, devono passare dai 3 ai 5 anni. E dunque non lo sappiamo. È troppo fresca la cosa. Non possiamo dare le garanzie. Vado di persone in giro e trovo persone che sento, traparlano, tra di loro. Come va? Ho fatto la seconda dose e non riesco più a piegare la gamba. L'altro non riesce più ad avere un braccio. L'altro balbetta. Come andiamo con le cose qui? Cos'è? Tutto casuale? Tutto casuale? Ma nessuno ne dice di queste cose. C'è una discriminazione secondo voi? Molto, molto. Perché io faccio un esempio in un negozio che non faccio il nome. Mi sono trovato a fare spesa, avevo una signora davanti a me, ha chiesto alla cassiera se era vaccinata. La cassiera, una ragazza giovane, no, farò giorni perché adesso non l'ho ancora fatto. Bene, allora scusate, ha ritirato da roba, cambio cassa. E questo ci è rimasto un po' male, giustamente. Ma non è una pestata, io non ho cambiato cassa. Io sono andato avanti lo stesso. A pensarla come lui, anche la compagna Silvia Carra, che ha deciso di non vaccinarsi perché, ha dichiarato, non sono più i rischi dei benefici, visto che ho diverse patologie. Ho tre, però non mi hanno rilasciato nulla per certificare questo. Quindi, quando uno è in giro, a parte che la domanda sostanziale è se hai vaccinato o no, perché allora ti sto lontano piuttosto che ti sto vicino. Ma so che comunque il virus, se si deve trasmettere, in ogni caso, si trasmette a prescindere da mascherina, a prescindere da che tu ce l'abbia, non ce l'abbia. Io in questo momento conosco due casi di persone che sono stati vaccinate con doppia dose e che sono a casa col Covid. In conclusione, Silvia ci ha mostrato un articolo della verità. Volevo sottolineare una testimonianza di Miloni. Lo studio pagato da Speranza che demolisce il Green Pass, ricerca dello Spallanzani, finanziata dal Ministero della Salute, contraddice in toto la politica del governo. I vaccinati possono riprodurre virus vitale proprio come i non protetti. Quindi il lascia passare non serve. Avendo lavorato io nel farmaceutico, posso poter dire che soprattutto i danni più gravi che può portare il vaccino, so che sono a livello neurologico. Io non voglio finire in carrozzina, non voglio avere danni permanenti, non voglio morire per aver fatto, per essermi inoculata, qualcosa di cui neanche i medici in se stessi sanno. Che cosa siano, almeno in parte, e che cosa ci sia dentro, e quali effetti ci sono. Mi date garanzie. Che garanzie danno? Nessuno. Adesso cambiamo argomento, invece parliamo della inaugurazione avvenuta lo scorso fine settimana del nuovo palatrave a Fano. La struttura sarà gestita dalla Virtus Volley. Filippo Pucci. Taglio del nastro sabato scorso per l'inaugurazione del nuovo palatrave a Fano. Alla presenza del sindaco Serie e del presidente della società Virtus Volley, Giacomo Iannelli, la nuova struttura è stata intitolata in ricordo dei dirigenti ed allenatori Paolo Ciocia, Bibo Giacomini e Maurizio Gramolini. E infine alla giovane palavolista Benedetta Vitali, scomparsa nella tragedia di Corinaldo. Era da tanti anni che non si inaugurava un nuovo impianto sportivo a Fano. Grazie al contributo di alcuni imprenditori, al contributo della Virtus, che ha fatto i suoi bravi investimenti e ha grande supporto dell'amministrazione guidata da Massimo Seri, siamo riusciti a realizzare questo che per noi è un sogno. Qui vengono a giocare bambini, prevalentemente vengono a fare attività sportiva la mattina alle scuole e quindi è un'occasione per tutti per poter godere di spazi più adeguati nel quale svolgere attività sportiva. Noi facciamo supporto al sociale con l'attività sportiva, crediamo in questa cosa qua, crediamo che aiutare, che avviare allo sport e mantenere nello sport i giovani sia una delle cose più importanti da fare perché poi quando ci si appassiona allo sport praticato da giovani si continua anche da grandi. E abbiamo visto su di noi, che veniamo da questa esperienza, i vantaggi che ci sono e quanto si diventa per certi versi migliore. Il palatrave, che sarà gestito dalla Virtus Volley Fano, è alto 10 metri con un ingombro totale di 28x30,5 ed è composto da sette arcate portanti in legno a lamellare bianco che sostengono una copertura in tessuto in doppia membrana di ultima generazione che consente l'isolamento termico e il passaggio della luce. Prossimo step, gli spogliatoi per i ragazzi e le ragazze. È un progetto, come dicevo, di città che dà risposte a tanti giovani, che coinvolge tante famiglie ma soprattutto è una struttura poi a disposizione della città. Questo modo di dialogare e di sentirsi un tutt'uno portano a questi risultati. Quindi oggi è una bella giornata e una soddisfazione anche personale perché personalmente insieme all'assessore dello sport di allora Caterina Delbianco ci avevamo creduto e abbiamo accompagnato questo progetto e oggi raccogliamo questo bel frutto. Al Teatro della Fortura di Fano ieri mattina sono stati consegnati 25 attestati a coloro che hanno richiesto e ottenuto la cittadinanza italiana nel primo semestre del 2021. Si tratta di un modo, ha commentato il Sindaco Seri, per accogliere coloro che adesso fanno parte della nostra comunità, crescere e abbracciare nuovi cittadini è sempre un atto da celebrare. E adesso invece apriamo l'album di famiglia di FanoTV, andiamo subito a fare gli auguri a Giancarlo Testa Guzza e Francesca Valenti, residenti a Mondavio, che sabato scorso hanno festeggiato 56 anni di matrimonio. Il primo ottobre invece Ivana Pieroni e Beltrando Balducci hanno festeggiato le nozze di Smeraldo, 55 anni di matrimonio. Auguroni a tutti, allora noi ci vediamo domani mattina alle 7 in diretta con la Rassegna Stampa, il commento alla stampa del giorno, occhio ai giornali, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie.